Prima avrebbe giocato alle videolotteri, poi impugnato il fucile e minacciato il gestore dietro al bancone. Una vera e propria rapina a mano armata si è consumata alla sala slot che si trova nella galleria Valtiberina, nella famigerata zona di Campodimarte dietro alla farmacia comunale. A pochi passi da lì il bar Italia è ancora chiuso per i noti fatti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, al degrado urbano e sociale della zona. Il fatto è accaduto a fine giornata dopo le 19 ed ha fruttato al malvivente qualche migliaia di euro frutto di una decina di ore di lavoro della sala slot, forse la più grande attiva ad Arezzo Città. Sul posto è immediato l'intervento della polizia, mentre l'uomo che aveva agito a volto scoperto aveva già fatto perdere le sue tracce. Tracce sulle quali è al lavoro anche la scientifica che ha effettuato i rilievi. Importanti saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno del locale.